William Bisacchi, serramentista, serramentista è digitale, ho voluto che fosse qui in mezzo a colleghi serramentisti e rivenditori, guardate la mascherina ogni tanto cala, proprio perché a complemento dell'intervento di Viviana Barocco potessi illustrare come sia possibile per un'azienda che non è enorme, che è grande, la tua è un'azienda piccolina. Chi sei? Dovrebbe funzionare anche il mio Ennio, è un'azienda piccolina, tra l'altro io gioco in casa, molti di qui sul pubblico li conosco e siamo amici perché è un'azienda di Gambetto, la Folicesena, a 30 km da qui, ecco adesso si sente meglio, è una ventina di persone, tra noi i miei cugini titolari e i dipendenti, è un'azienda che è cresciuta molto digitalmente, mi veniva da sorridere quando vedevo l'intervento di Viviana perché... Scusa, una ventuno, ventidue adesso, perché io tantissimi anni fa ho iniziato la mia carriera, diciamo così, il mio essere formato dal babbo di Viviana, c'era ormai vent'anni fa credo con Vladimiro. Io farei un grande applauso al dottor Vladimiro Barocco che è stato il primo studioso di marketing di questo settore, ecco, con tanti saluti. E mi ricordo anche un libro che fece sul marketing che era praticamente, parlava dei proverbi veneti legati al marketing, allora non c'erano tutti questi problemi delle recensioni che se le cose non vengono ci siete bene le recensioni sono tutte o praticamente tutte buone su Google, è difficile che uno ti venga a scrivere una cosa con un nome falso e come magari succede nel campo della ristorazione, però rispondere è sempre la cosa corretta, a modo senza innescare dei flame di botte risposta continua, però rispondere è sempre a buona educazione. Quando hai iniziato queste tue esperienze digitale? Ora, digitale, diciamo sui cinque anni fa ho iniziato, che avevo iniziato a scrivere degli articoli per Shurumi dell'Istia Seraventi, che poi li ho trasformati per un blog, infatti sì, merito di Olga Murini, che ce l'hanno conosciuto in una fiera, poi abbiamo iniziato questo rapporto di collaborazione, ho detto che questi articoli sarebbe bello poterli mettere a disposizione di tutti, anche nel tempo, perché è una rivista, è molto bella da sfogliare, ma dopo un po' la mette lì e prende della polvere. Quindi mi sembra 2015, devi ricordare. Poi l'avevo lasciato un pochettino andare, perché comunque al tempo, quando c'è un'azienda, quelle che sono qui presenti, lo sanno bene, non è mai abbastanza da fare niente, per poi riprenderlo un anno dopo. Da allora non l'ho mai smesso e questa è la chiave per vedere un po' di numeri. Non è che sia una droga? Diciamo che è come il nostro lavoro, fare le finestre, se ti piace, hai passione, tu passeggio con la moglie, lei guarda le vetrine e tu guardi come ha fatto la vetrina. E' una droga, ma positiva. Certo, assolutamente. È costoso questo? Non è di per sé costoso, o meglio, fino a qualche anno fa era veramente poco costoso, piano piano si sta alzando, perché tanto tutto è basato su aste, quindi più concorrono queste aste, più i prezzi si alzano. Però diciamo che si possono fare delle cose molto belle, anche con una grande, danno grande autorità, che una volta sulla carta costavano veramente migliaia e migliaia di euro. Oggi si può parlare di decine o centinaia di euro di investimenti, poi dipende da quello che uno vuole fare. Certo. Quali sono i risultati che hai avuto? I risultati sono tantissime richieste di preventivi, di contatti. Cioè c'è un ritorno? Sì, sì, c'è un ritorno. Perché il babbo tuo mi sembra all'inizio era un po' scettico, no? Sì, sì. Racconta. Il babbo era scettico perché comunque mettere a disposizione di tutti anche alcune malizie, alcune cose che hai imparato durante tutti gli anni della tua esperienza può sembrare controproducente, ma questo è un aspetto un po' del passato. Io gli ho sempre detto, siamo nell'ottica della condivisione, siamo poi nel secolo della condivisione delle informazioni e prima o poi le cose ti tornano indietro. Diciamo se tu si fai del bene, se dici le cose poi come stanno, se dici quello che pensi e se poi fai quello che hai detto. E quindi ho quello che chiamo tutti colleghi e non concorrenti perché sono per essere proprio per condividere le cose. Questo è molto bello, ecco. Quanti video hai fatto? Credo che siamo nell'ordine di 300 video, più un'altra cinquantina ancora da pubblicare, ma non le pubblico perché altrimenti se lo trovi le tengo sempre un pochettino in tasca, diciamo. Quante visualizzazioni? Visualizzazioni, circa 70.000 visualizzazioni al mese. Qualche giorno fa mi è arrivato un avviso che avevo superato il milione di visualizzazioni da quando avevo aperto il canale, perché all'inizio, quando si inizia, quattro anni fa, credo, il canale YouTube, magari fai un video, hai dieci visualizzazioni, quattro visualizzazioni, guardi tu, tuo babbo e tuo cugino, poi col tempo le cose migliorano. Qual è stata la molla che ti ha fatto fare il salto? Perché questo è il dramma di tutti. In realtà non c'è molla, cioè è come nel nostro lavoro, passione, dedizione, quindi non scoraggiarsi quando non si vedono i risultati, perché nei primi anni, mesi non ne parliamo, anni, perché parliamo di quattro, cinque anni fa per avere questi risultati, e costanza, perché se tu lo fai un mese e poi fai sei mesi e non fai più niente, anche gli algoritmi di YouTube, di Google, non premiano questa cosa, loro si nutrono dei nostri contenuti, quindi più cose nuove gli diamo, interessanti, più loro ti fanno crescere nella loro classifica, fanno vedere i tuoi video, possibilmente a più persone. Quanti clienti hai beccato, usiamo il termine, attraverso i tuoi video, le tue newsletter, i tuoi video messaggi, web messaggi. Diciamo, Ennio, che fino a un po' di anni fa potevi fare questa distinzione, e noi comunque ogni cliente che entra glielo chiediamo. Oggi in realtà qual è quel cliente, anche se è un tuo amico, anche se è un passaparola, che però non va a vedere quello che hai fatto nel tuo sito, non ti incontra su YouTube. È difficile che oggi uno che entra a un cliente non mi dica ah, mi sono visto tutti i tuoi video. Quindi direi, assolutamente più del 50%, saremo vicini al 70-80%. Lo consigli ai colleghi? Assolutamente, sì. Però tu hai fatto Piazza Pulita, sei arrivato prima, c'hai ancora 50 video da pubblicare, quindi hai quasi esaurito tutto lo scibile del mondo del seramento. Da una parte è vero, però può arrivare quello più bravo, che fa dei contenuti migliori, che fa dei contenuti più interessanti, più aggiornati e mi può passare avanti. Poi non mi dispiace bene anche, poi lo prendi come sfida, poi tu rifai ancora tutto. Io direi che con questa battuta qua e poi andiamo avanti, possiamo chiudere. Ringraziamo, e viva la competizione, quindi ringraziamo William Bisacchi e grazie mille. Grazie a tutti voi. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.